camminerò camminerò sulla tua strada signor dammi la mano e voglio restare per sempre insieme a te penso che tutti vorremmo rimanere e restare con il signore per sempre carissimi fratelli e sorelle pace e bene buongiorno per tutto il giorno meditiamo stamattina il vangelo di luca capitolo 7 versetti 24 a 30 quando gli inviati di giovanni furono partiti gesù si mise a parlare di giovanni alle folle che cosa siete andati a vedere nel deserto una canna sbattuta dal vento allora che cosa siete andati a vedere un uomo vestito con abiti di lusso ecco quelli che portano vesti sontuose e vivono nel lusso stanno nei palazzi dei re ebbene che cosa siete andati a vedere un profeta sì io vi dico anzi più che un profeta egli è colui del quale sta scritto ecco dinanzi a te mando il mio messaggero davanti a te egli preparerà la tua via io vi dico fra i nati di donna non vi è alcuno più grande di giovanni ma il più piccolo nel regno di dio è più grande di lui tutto il popolo che lo ascoltava e anche i pubblicani ricevendo il battesimo di giovanni hanno riconosciuto che dio è giusto ma i farisei e i dottori della legge non facendosi battezzare da lui hanno reso vanno il disegno di dio su di loro parola del signore ecco carissimi questo brano di luca ha il suo parallelo nel vangelo di matteo capitolo 11 allora e gesù sembra difendere proprio e giovanni il battista che cosa siete andati a vedere nel deserto perché questa domanda perché giovanni è il messaggero che dovrebbe venire a preparare la via al signore e dunque chi crede in giovanni battista allora si prepara proprio alla veduta del signore che conosce giovanni battista conoscerà anche gesù cristo il messia ma purtroppo sono i pubblicani sono i peccatori che ci sono che sono fatti battezzati da giovanni il battista perché hanno creduto nel suo messaggio qui e giovanni compie soltanto la profezia di malachia malachia 3 che parla proprio di questo messaggero che verrà davanti al signore ecco carissimi dunque è l'invito proprio di 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 gesù alla forma ma perché non avete creduto in giovanni battista voi cercate a conoscere me ma sicuramente non mi conoscerete nel momento in cui non avete creduto in giovanni battista perché lui è il messaggero che dovrebbe venire lui è proprio il mandato l'inviato di dio a preparare la via del del messia e poi gesù conferma che tra i nati di di donne non c'è uno più grande e di giovanni battista l'abbiamo commentato questa questa parte per dirci carissimi ecco qui anche noi veramente da fare da aprire l'orecchio per ascoltare i messaggeri di dio non i falsi ma i veri messaggeri perché quando siamo per esempio nelle difficoltà quando siamo nelle tribolazioni quanti messaggeri vengono a parlarci quanti messaggeri ognuno viene con la teoria sua chi viene per ingannarci chi viene per approfittare della nostra debolezza chi viene per quello chi viene per quell'altro ma qui tocca invocare lo spirito per avere un discernimento per non andare ascolto ascolto a chiunque ci parla a chiunque ci parla è importante perché tanti messaggeri vengono ma qui siamo invitati a credere a quelli che ci portano una buona notizia a quelli che ci vogliono bene a quelli che ci vogliono guidare sulla strada della salvezza a quelli che veramente sentono compassione a quelli che sentono il nostro desiderio il nostro bisogno e sono capace anche di sacrificarsi per salvarci per darci veramente un sollievo ecco sono questi messaggeri sono questi angeli che dio manda sulla nostra strada purtroppo l'uomo nella sua cattiveria vuole sempre essere un falso messaggero ma continuiamo a invocare lo spirito santo per darci questo discernimento questa capacità di sapere distinguere il bene dal male il vero messaggero dal falso messaggero allora che dio vi aiuti che dio vi benedica e vi auguro una buona e santa giornata a tutti